Questa mattina nel cimitero comunale di Fasano si è svolta una importante e toccante cerimonia di commemorazione per ricordare il vicebrigadiere Franco Zizzi e con lui tutti gli altri membri della scorta di Aldo Moro assassinati in Viafani nel 1978. Vediamo il servizio. 16 marzo 1978 il fasanese Franco Zizzi parte della scorta dell'onorevole Aldo Moro viene assassinato dalle Brigate Rosse nell'agguato in cui oltre a perdere la vita altri quattro poliziotti viene rapito il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro. Il terribile agguato avvenne a Roma tra Viafani e Via Stresa nel giorno della presentazione del nuovo governo guidato da Giulio Andreotti. Questa pagina di cronaca nera è ricordata ogni anno in tutta Italia per non dimenticare le vittime di questo vero e proprio attentato allo Stato italiano. Un evento che ha segnato la storia politica e sociale del paese ed è ancora oggi oggetto di discussione. Come ogni anno in occasione dei 34 anni dalla strage nella chiesa del cimitero di Fasano è stata celebrata una messa in ricordo del vicebrigadiere di polizia Zizzi. Presenti rappresentanti delle forze dell'ordine e istituzioni locali. La cerimonia commemorativa si è conclusa dinanzi alla tomba monumentale del poliziotto fasanese dove il primo cittadino Lello di Bari ha lasciato un omaggio floreale e Don Claudio Machitella ha dato la sua benedizione commossa dopo 34 anni la sorella del brigadiere. È lo stesso ricordo come se fosse stato il primo anno. È un'emozione forte che si prova, un amore grande per lui. Ci auguriamo di ritrovarci in cielo perché siamo credenti e crediamo che la sua morte non sia stata vana. Crediamo in Dio, crediamo nel fatto che potremo rincontrarci. Così come ha detto il cappellano militare durante la celebrazione della messa. Per qualcosa sarà servita la sua morte, per noi, per tutti, per la società civile. Una giornata importante perché serve a farci ricordare quello che un nostro concittadino ha fatto, suo malgrado, immorandoci per la pari per garantire a tutti noi uno stato libero. Quindi un momento estremamente importante, un momento estremamente emozionante e commovente. Noi dobbiamo iniziare dal ricordo, ricordando il sacrificio di quest'uomo, di questo appartenente al Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, il brigadiere di Pubblica Sicurezza Zizi, immolò la sua vita per difendere le istituzioni, adempiendo a quello che era il suo dovere, il suo compito. Questo ci deve servire per ricordare, ma anche perché ci deve servire da stimolo, perché la nostra attività deve vivere proprio nel ricordo di quel sacrificio. Incremento estremamente positivo per l'export in Puglia. Secondo l'ultimo rapporto Istat, la nostra regione si aggiudica il primato nelle esportazioni sull'intero territorio nazionale. Davvero un grande risultato, ma vediamo il servizio. La Puglia è la prima regione in Italia per crescita delle esportazioni. Lo certifica l'ultimo rapporto Istat sull'export delle regioni italiane. Nell'arco dei 12 mesi del 2011, il settore delle esportazioni pugliese è infatti cresciuto del 17,9% rispetto allo stesso periodo del 2010. Un dato che rappresenta il migliore in Italia. Seconda regione per incremento è la Sicilia, dove la crescita è stata del 15,5%, mentre al terzo posto si colocano a pari merito l'Abruzzo e la Liguria, con una crescita del 14,7%. Sull'intero territorio nazionale, invece, l'aumento si ferma all'11,4%. La differenza di 1,25 miliardi di euro tra i dati assoluti del 2011 rispetto a quelli del 2010 è l'unico spread che ci riempie d'orgoglio, è il commento del governatore Nichi Vendola, che evidenzia come la Puglia sia espressione di un'inversione di tendenza che dimostra come si possa uscire dallo stereotipo del sud piagnone, proponendosi oggi come il territorio in Italia che cresce di più sui mercati esteri. Nel 2011 le vendite all'estero della Puglia valgono 8,159 miliardi di euro, con una crescita rispetto ai valori pre-crisi del 2008 di 719 milioni. La Puglia dunque supera i valori precedenti alla crisi globale del 9,6%. Se poi guardiamo i numeri assoluti del 2010, si passa da 6,919 miliardi agli 8,159 attuali, con una crescita di 1,250 miliardi di euro. Il primato della Puglia nelle esportazioni rilevato dall'Istat nel report pubblicato in queste ultime ore arriva dopo un anno di grande crescita nelle esportazioni di trimestre in trimestre, con riposizionamenti anche per settori come il TAC, Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero, che hanno particolarmente risentito della crisi degli anni scorsi. Sul fronte dei settori, all'exploit delle vendite dei prodotti dell'estrazione da cave miniere, più 158,2%, si aggiunge quella dei mezzi di trasporto in generale, più 58,3%, e degli autoveicoli in particolare, più 70,8%, forti anche gli articoli in gomma, con un più 46,3%. Salgono per più del 30%, inoltre, i prodotti in legno e gli articoli farmaceutici. Bene il comparto dei prodotti alimentari, bevande e tabacco, con un più 17,2%, e i metalli, con un più 15,1%, mentre i prodotti tessili ed elibigliamento, pelli e accessori segnano un più 6,2%. L'estate non è certamente alle porte, siamo ancora in inverno, stiamo per uscire dall'inverno, c'è un'altra stagione di mezzo, ma bisogna muoversi per tempo per organizzare l'estate, e ad Ostuni gli operatori turistici, turistico alberghieri, hanno incontrato l'amministrazione comunale nel pomeriggio di ieri per discutere di alcuni importanti provvedimenti. Vediamo il servizio. Non c'era da parte dell'amministrazione alcun intendimento di mortificare il territorio e né tantomeno gli operatori del settore. Devo ricordare, diciamo, a chi è corto di memoria, il lungo percorso di collaborazione e di sinergia che ha caratterizzato questa città e che ha portato a conseguire risultati importanti sul piano turistico, dal boom numerico e qualitativo e quantitativo, a partire proprio, ricordo perfettamente, dall'inizio degli anni 2000, l'incremento rispetto ad una storia, una tradizione ormai ultra trentennale. Si tratta di mettere a punto ulteriormente queste forme di collaborazione, così come anche io penso che alcune considerazioni che sono state fatte sugli organi di stampa non avevano assolutamente da parte degli operatori turistici intendimenti di sollevare polemiche inutili, sterili o strumentali, ma solo forse per attirare l'attenzione che già c'era, visto che questo penso sia il terzo incontro che facciamo con gli operatori del settore. I temi sono sicuramente l'opportunità, o meno, in un periodo di crisi in cui anche il turismo è sensibile a aumenti di costo, consideriamo che negli ultimi tempi l'Italia, intesa come destinazione, ha recepito un sacco di aumenti improvvisi, dovuti un po' all'Europa, ma a fattori contingenti, l'aumento del gasolio del 70%, che in qualche maniera condiziona anche i costi di trasporto, spesso la presenza di disservizi, di scioperi, di eventi non calcolabili che all'occhio del mondo e del turista in particolare spesso ci rendono poco affidabili da un punto di vista turistico. L'incontro non è in polemica con l'amministrazione, tutt'altro, però vuole sollevare alcuni problemi che sono le prime reazioni dell'introduzione di una tassa di soggiorno. Le reazioni sono quelle di chi organizza e programma i propri tour, si vede costretto ad applicare al proprio cliente una tassa che, se vogliamo, è stata tirata fuori, non nei tempi giusti, a nostro avviso, di chi fa programmazione spesso 12 mesi prima. Quindi un primo obiettivo è quello di rivedere questa politica della tassa di soggiorno e magari posticiparla e far sì per l'appunto che anche gli operatori stranieri possano in qualche maniera metabolizzarla e riorganizzare i loro pacchetti. A Cisternino, l'opposizione consigliare per voce del capogruppo del PDL Mario Saponaro critica l'attività della Giunta Baccaro rivolgendo le sue attenzioni su alcuni punti importanti della pianificazione amministrativa. Vediamo. L'iter del progetto di sistemazione della strada dei colli, l'erogazione dei contributi alle associazioni cittadine e la gestione del centro raccolta rifiuti. Sono le questioni principali sulle quali rivolge le proprie attenzioni dai banchi dell'opposizione consigliare a Cisternino il PDL guidato dal capogruppo Mario Saponaro. Punti al centro del confronto politico-amministrativo in atto tra le forze di minoranza e la maggioranza guidata dal sindaco Donato Baccaro. A Cisternino le associazioni rappresentano una colonna portante di tutto quello che è il non-profit e quindi fare l'elemosina, per cui stiamo parlando di poco meno di 20.000 euro, è semplicemente ridicolo o anche offensivo per tutta l'attività che fanno queste associazioni. Noi abbiamo chiesto semplicemente che venisse applicato il regolamento e che i contributi venissero dati in ragione della loro effettiva attività associativa. Questa è una prima questione. L'altra questione è quella della strada dei Colli. Da quando si sono insediati non si sente più parlare di strada dei Colli. Già nella passata legislatura avevamo segnalato le difficoltà rispetto al progetto che è stato presentato e che prevederebbe un finanziamento di 4 milioni di euro. Io mi auguro che l'amministrazione non ci metta nelle condizioni di perdere quel finanziamento di 4 milioni di euro che servirebbe, a mio parere, a sviluppare quell'area non già con una strada devastante di collegamento che non serve ma con una strada, con un sistema viario che possa permettere di individuare quel territorio come percorribile a fini turistici quindi una strada che rispetti quel territorio l'orografia di quel territorio magari creando anche delle aree di sosta, piste ciclabili e quant'altro. Questo per quanto riguarda la questione della strada dei Colli. Poi in ultimo io con grandissima soddisfazione devo rilevare che finalmente la Commissione Paesaggio ha fermato quel progetto che prevedeva l'edificazione di un centro di raccolta rifiuti incontrato da Peppe Turro. Un centro di raccolta che io ho sempre criticato avevo scritto alla Regione ho segnalato che lì in quel punto non c'erano più le condizioni né giuridiche né urbanistiche quindi per realizzare lì un centro di raccolta il percorso si è fermato ancora prima che si arrivasse a una sentenza del TAR eventualmente però si è fermato grazie appunto alla Commissione Paesaggio. Nel frattempo purtroppo dei cittadini hanno già speso quasi 10.000 euro per presentare un ricorso al TAR adesso bisognerà vedere se questi cittadini che comunque hanno anticipato questi soldi potranno anche chiedere di essere ristorati dall'amministrazione io evidentemente in quel caso sarò il primo a dire che quei soldi li devono rimborsare gli attuali amministratori. Ed ora andiamo a Francavilla Fontana dove sta per partire l'evento in assoluto più sentito non solo dalla comunità locale parliamo dei riti della Settimana Santa conferenza stampa di presentazione questa mattina l'ha seguita per noi Agnese Poci il suo servizio. La Puglia non è solo la terra del mare e del sole ma anche della fede dei pellegrinaggi e la città di Francavilla Fontana ne è la dimostrazione tangibile i riti della Settimana Santa della città degli imperiali superano i confini regionali e attraverso un notevole impegno nella promozione delle loro peculiarità raggiungono la capitale, Roma qui saranno protagonisti di una mostra fotografica allestita presso la Sala Santerida nei pressi di Piazza Campitelli a presentarla ufficialmente alla stampa e alla città sono stati il sindaco di Francavilla Fontana Vincenzo della Corte l'assessore al turismo Mimmo Bungaro e l'onorevole Luigi Vitali e il consigliere regionale Pietro Iurlaro la mostra sarà suddivisa in una sezione fotografica con gli scatti di Antimo Altavilla Giuseppe Lombardi e Alessandro Rodia e in una sezione completamente dedicata ai camici ricamati messi a disposizione dalle confraternite francavillesi per tutto il corso della mostra sarà anche proiettato un film documentario del 2006 prodotto dal comune di Francavilla Fontana sui riti della settimana santa dalla città degli imperiali sta partendo proprio in occasione della giornata di inaugurazione della mostra un bus con 54 persone proprio per l'occasione la mostra che ha ricevuto il patrocinio della regione Puglia della regione Lazio della provincia di Brindisi e della provincia di Roma della Camera di Commercio di Brindisi e del brand Roma Capitale dopo 4 giorni a Roma tornerà in Puglia esattamente nella chiesa di Sant'Angelo in via Roma a Francavilla Fontana dove il 31 marzo verrà inaugurata proprio in concomitanza con l'inizio della settimana santa l'amministrazione comunale è impegnata da alcuni anni a promuovere questi riti religiosi perché riteniamo opportuno e riteniamo soprattutto doveroso fare ciò perché sono unici e se Roma Roma Capitale ha deciso di illustrare tramite una mostra fotografica i riti di Francavilla Fontana appunto nella capitale del mondo significa che diciamo c'è molto interesse in questo evento noi l'amministrazione comunale non fa altro che promuovere questo evento senza entrare nel folklore senza diciamo entrare nei particolari che chiaramente gestisce la chiesa o addirittura le confraternite quindi siamo impegnati in questo da alcuni anni e adesso stiamo avendo veramente dei buoni risultati siamo partiti da Francavilla per poi andare a Brindisi poi qualche anno fa siamo stati ospite del comune di Lecce e adesso a Roma significa che è un percorso una mostra itinerante dove appunto illustriamo un po' le peculiarità dei riti di Francavilla Fontana e siamo veramente soddisfatti del successo ci auguriamo che gli altri enti enti pubblici parliamo della regione Puglia e della provincia di Brindisi facciano molta più attenzione e diano un po' più risalto a questo evento che non è un evento soltanto comunale ma è un evento territoriale e con i riti della settimana santa di Francavilla Fontana chiudiamo questa edizione del giornale non prima ovviamente di avervi ringraziato per la solita cortese e attenzione che ci riservate grazie ancora questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it www.trcb.it